Liliana De Santis, responsabile della palestra Libera Danza di Decollatura che tra poco si esibirà a San Pietro Apostolo per la festa della ciliegia. Buonasera a tutti e sono felicissima di partecipare a questo evento, mi pare sia la tredicesima edizione se non erro, quindi vi invito, noi siamo ancora qui fino a tardi, vi invito a venire e comunque a seguire tutte le edizioni ogni anno e mi congratulo con la Presidente Rosetta e tutta l'organizzazione e anche l'amministrazione per tutta la collaborazione e la bellissima riuscita di questa manifestazione. Lo spettacolo in cosa consisterà? Allora faremo tre coreografie calabro siciliane naturalmente per partecipare, per dare il nostro contributo, per omaggiare la nostra terra di Calabria e per essere il più possibile attinenti a questa manifestazione che comunque parla di Calabria, di prodotti di Calabria e in questo caso siamo qui a San Pietro Apostolo e quindi non potevamo non esserci. Grazie Grazie Grazie